Le spiagge della Sassonia non sono le sole in queste ore di mareggiate ad aver subito una pesante situazione dovuta all'azione del mare. Ci sono altri tratti di costa affanese che non dispongono di scogliere adeguate che hanno fatto passare agli operatori balneari noti insonni a strappare alla furia delle onde file e file di ombrelloni come i bagnini tra l'Anfiteatro Rastrata e Marina dei Cesari. Sono i bagnini di Ponte Sasso dove le scogliere soffolte non assicurano da tempo un'adeguata protezione alla costa e dove da tempo chiedono una protezione adeguata delle loro attività commerciali. Il mare è arrivato in terza fila, ha portato via un sacco di sabbia, è un macello. Adesso state lavorando. Cerchiamo di ripristinare un po' il tutto ma è un mezzo lavoro perché il mare sta venendo su ancora e qui se non si fanno le scogliere non c'è niente da fare. Insomma se andiamo avanti così non so, non si riesce a lavorare assolutamente. Ore e mattinate diverse da quelle che dovrebbero essere normalmente? Sì perché anziché essere pieno di clienti è pieno di bagnini per rimettere a posto il tutto. Come tutti gli anni lavoriamo tanto per mettere tutto quanto preciso e basta 4 ore di mareggiata minima, poi neanche una cosa grossa per rovinare tutto il lavoro di mesi. Cosa vorreste? Visto che noi abbiamo pagato anche la progettazione per queste scogliere che vengano fatte anche perché non si può andare avanti in questa maniera. Inoltre questa mareggiata non ha agitato solo le onde del mare ma ha montato anche la polemica sulla futura pista ciclabile che dovrà sorgere proprio lungo la costa e che porterà via metri di concessione. E quindi ombrelloni ai bagnini che chiedono di riguadagnare metri di battigia con gli escogliere prima di sacrificare sull'altare della mobilità verde i loro spazi lavorativi. Come si dice le case si fanno dalle fondamenta e non dal tetto, perciò prima si fanno gli escogliere e poi si fa la ciclabile. È una cosa più logica anche perché se il mare mi porta via gli ombrelloni, la ciclabile mi porta via gli ombrelloni, o siamo qui per passare il tempo o mi invitano a mangiare tutti i giorni a me e la mia famiglia perché se non si va avanti. Inoltre mentre gli anni passati il fronte dell'erosione era più contenuto, solo 3 o 4 bagnini, ora invece l'azione dei marosi riguarda più stabilimenti balneari. Si va da 1 o 2 bagni a nord del rio Crinaccio a oltre i bagni Carmen, coinvolta anche la isla Morada, una dog beach che da 5 anni accoglie bagnanti a 2 o 4 zampe, anche questa pesantemente colpita da questa mareggiata. Per finire al confine con il comune di Mondolfo dove a pochi metri dai disastrati bagni fanesi, il primo bagno a nord del comune di Marotta, confinante col comune di Fano, ha metri e metri di spiaggia. Indovinate perché? Ecco cosa succede con una scogliera ben fatta.